Quindi diciamo, a memoria c'era, diciamo, negli anni 50, forno Neantimo e alimentari, come era organizzato? Ma gli alimentari in quel periodo ce ne stavano tanti. Beh, stavano uno a prestagliare. A Triglione pure, dove stava? Era il mio mozio di Minerva. Sopra ce ne stava uno alla piazzetta, poi veniva giù e ci stavamo noi. Poi ci stava pure Mirko, Mirko, quasi qua davanti il dono del palazzo di Angela. Ci stava un'altra, Mirko, stavano qui, sotto l'appetito, ci stavano nel negozio di alimentari. Chi è appetito? Mirko. Chi è appetito? Appetito, a Triglione, che si chiama questa che è, sotto anche la cassa, che muoce di Mirna, Allora, ci stava il negozio di Mirko, d'alimentari, alla piazzetta qua ci ne stava un altro. No, ma invece quando lo spalcone. Il spalcone, ma pure quello, io me lo ricordo, cosa non è calcato. Beh, Mirko, mi ricordo pure Mirko. Beh, ma quando il pane troppare ce ne stavano, ce ne stavano, ce ne stavano, ce ne stavano il ghetto. No, ce ne stavano, ce ne stavano, ce ne stavano, ce ne stavano, ce ne stavano. Beh, ma troppo ce ne stavano. E pure io, il padre e il mio marito, erano camerette, praticamente, non erano le pozzità. Erano chissà rottini che ti raccontavano, ti faceva botte, tutte le coniate, tutte le coniate, tutte le coniate. E qua, vicino a me, ti raccontavano tutto, tutto, però tu ti dovevi stare zitta, perché non dovevi dare i paragoni. oltre le coniate. e le cose che stanno insieme e magari in quale si compravano tutti i giorni ma perché? Perché i frigoriferi invece li avevano a casa ma secondo me 5 litri di conserva, mi ricordo un bellissimo 5 litri di conserva, la pasta netto, secondo quelle persone, era tutto sfuso, non era tutto imbustato allora si andavano costruiti gli spaghetti alle spalle con la carta che la cacciuffa e poi si compravano per esempio 10 frolliti dei biscotti per la mattina per lo nasce tutto sfuso, doveva, 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 i formaggini, doveva, i formaggini rame che erano per i più ricchi e l'ho capito, l'ho capito, tutta sta roba così a grammi perché gli amici, gli amici e loro lo svegliano le signore, perché loro pure lo sapono che le svegliano tre tiri di farina, poi un altro tipo di paghi